La Commissione Si rifà una banca di diritto pubblico Si nazionalizza, non si fa fallire Si nazionalizza C'è un PD che sta cronando Perché questo è Craxi con Tangentopoli Forse di più Questo è più di Parma 28 mila miliardi di lire 14 miliardi che sono spariti Poi prendi l'Imu delle persone E vai lì a dire 4 miliardi Ma è veramente incredibile Quindi si prendono quelli lì E si mettono sulla sedia Con un faretto in faccia Non molto potente E si fa una domanda Fuori i soldi Semplici, non è difficile Scaricano adesso sulle poveri Questo Mussari Ma sono spostare Il problema Su una Mussari I derivati 700 mila euro Ma stai scherzando? Qui mancano 14 miliardi Non Mussari I credi